Ho portato oggi questo romanzo che è La giovinezza della signorina NN di Silvia Ballestra. Silvia Ballestra è un'autrice che è leggermente più grande di me, pochi anni, e quando io ero adolescente era un'autrice per adolescenti. E poi diciamo che le sue opere sono cresciute assieme a me, cioè è stata poi un'autrice per giovani adulti, e poi un'autrice e basta quando anch'io ero un lettore senza qualifiche. Ed è veramente un'autrice che mi ha molto accompagnato. E questo romanzo l'ho ritrovato pochi mesi fa a casa di mia madre, perché a un certo punto della mia adolescenza, quando non ero molto in grado di comunicare con i miei genitori, gliel'ho regalato, cioè quello che vorrei dirvi e che non so dire è qua dentro. Non so se poi l'abbiano letto, credo di sì in effetti, però non ne abbiamo mai parlato, non ho mai avuto il coraggio di parlarne. Vi leggo l'inizio del primo capitolo, sono proprio poche pagine. Circa 12 anni prima, al tempo dell'Oceanic, una discoteca per ragazzi che oggi è un magazzino di scarpe, nel mite cuore di una notte rocchettina, la giovane N.N. e il signor Tenebra, un messie parigino che faceva le funzioni di chitarrista e cantante nel complesso degli... Eh! Si buttarono a bordo di un invitante carrello della COP giù per una certa discesa, che dopo un piccolo spiazzale si affacciava sulle scintillanti vetrine di una rivendita di veicoli Ford. La notte era splendida e le stelle ardevano con tanta grazia nel dolce fitto del buio che né brontolii di tuono né movimenti di nuvole contro la volta potevano interrompere il beato sogno dei due cari giovani, già disponibile anzi quel sogno a prendere velocità insieme a loro e seguirli, giù giù per l'esaltante pendenza. In fondo alla discesetta scorgevi uno spigolo d'edificio color marrone, che sotto lo spiovente di una luce stradale occhieggiava il brillio di una rete in metallo che assecondava la curva e una porzione del piccolo spiazzale, così che al di là di questi solo potevi immaginarle le sorprendenti vetrate tirate a lucido della concessionaria, l'industriale tesoro che dietro esse dormiva di giardinette e berline fiammanti appena uscite di fabbrica. Il signor Tenebra era in vena, rideva, assecondando l'abbrivio del carrello che scodinzolando partiva e rideva e l'ultima spinta prima di salire a bordo con giovanile e gioviale furore l'aveva data lui insieme a un gran bel colpo di reni, poi una volta rannicchiato all'interno per un istante aveva trovato il modo di dire una quantità di sciocchezze. Ridendo diceva che non sarebbe stato male se si fossero a un tratto imbattuti in un ostacolo non previsto, magari ricoperto di muschio, un qualche ape o una prince parcheggiati in un'ombra e ormai fermi da secoli, aveva detto sognando la compagna di bordo signorina NN, magari il popolato di gufi aveva riso il francese, affinché potessero ripararvi all'interno e affinché, nonostante l'evidente sereno, una gran folgore li uccidesse. Ma ecco che il carrello della Coop, perdendo il suo assetto, già si inclinava da un lato e sbandando solo a tre quarti della discesa di propria iniziativa scartando, e in quello scartare solo obbedendo alle cieche ineluttabili leggi della fisica, lasciava presagire, essendo sprovvisto di manubrio e freno, che non lo si poteva affatto guidare come un normale monopattino o uno di quegli indimenticabili carrioli di infanzia, in genere costruiti artigianalmente dai ragazzi, dentro i quali fra i 50 e i 60 i più giovani si erano sbucciati i ginocchi a milioni. Magari lo si doveva pensare, che un carrello progettato per usi diversissimi, dal prendere velocità in un pendio con due pazzi a bordo, avrebbe persino potuto cappottarsi senza preavviso. Invece il signor Tenebra era scoppiato in una nuova risata. E vedendo che il carrello miracolosamente restava in piedi, bene, aveva esclamato, benissimo, e la signorina Emène, contagiata dall'allegria del francese, al pensiero che da un istante all'altro potevano cappottarsi o restare addirittura uccisi dalla fulgore, possiamo presumere, della loro stessa idiozia, era scoppiata a ridere a sua volta. La minaccia di sfracellarsi e la velocità quando si respira a trafelati per la contentezza e ci si sente leggeri come un uccello agitano e solleticano il petto. Poi il signor Tenebra ha spostato tutto il suo peso sulla destra nel tentativo di imprimere al carrello chissà quale fantasiosa capacità di curvare anch'esso un trespolo con una maniglia e quattro ruote sotto, sulla destra, e le stelle in cielo erano ancora lì che assistevano alla sventata manovra, in pietrite, e la luce indiretta della luna gli faceva brillare la fronte al monsieur in vena di battute, innamorato e accaldato. Ebbene il signor Tenebra fu il secondo a sfracellarsi contro la vetrata della concessionaria Ford, preceduto ad un lampo della signorina Emène che in quella romantica quanto pazzesca occasione seppure per miracolo non si storpiò a vita, proiettata oltre il vetro fu fatta atterrare dalle leggi della fisica, ai piedi di una giardinetta sul cui parabrezza campeggiava la scritta a pennarello, benvenuti in Ford Escort. Che razza di botta, disse il signor Tenebra, avvicinandosi alla signorina Emène dopo un fragore di vetri rotti come fosse venuto giù tutto quanto il palazzo. «Siete ferita? Che dite?» Si accucciò e, respirando affannosamente per via della botta, sostenendola per le spalle, lui la guardava. La signorina Enène s'accorse che la guardava con ammirazione. «Cara, le disse lui, darei tutto quanto possiedo per poter soltanto rimanere qui a osservarvi. Stanotte siete meravigliosa». Nei suoi occhi c'era un'espressione entusiasta e supplichevole e i suoi suoi folti capelli lucicavano dei minuscoli frammenti di vetrata esplosa, che eppure, signore e Dio, parevano osservarla amorevolmente.